La RAI quando ho preso la presidenza era un'azienda che aveva un rapporto debito-equity 2 a 1, non aveva investimenti, aveva grosse perdite, quindi insomma era veramente da riorganizzare, quindi ho dovuto fare un crash program veramente impegnativo per riuscire a riportarla nel giro di un paio d'anni non solo in pareggio ma inutile, lasciando peraltro Mediaset molto indietro dal punto di vista dell'audience, dello share, perché quello era il mio compito di valorizzare RAI ovviamente. Da ministro ho fatto una riforma che forse era troppo in anticipo rispetto ai tempi, perché adesso viene ripreso questo concetto dell'alternanza scuola-lavoro, avvicinare questi due mondi, il canale professionale, quindi la mia riforma guardava al modello tedesco, se guardate la scuola in Germania e poi guardate il tasso di disoccupazione giovanile e fate la correlazione, vedete che quel modello di scuola porta a avere un bassissimo tasso di disoccupazione giovanile, la mia riforma andava in quel senso forse alla prematura.